Qualche tempo fa abbiamo parlato dei possibili abbinamenti con la carbonara, un piatto conosciuto in tutta Italia. Siete stati fantastici. Avete dato talmente tanti suggerimenti che vorrei proprio testarli tutti. Allora voglio provare la stessa cosa con un altro piatto, il tiramisù. Ovviamente mio amico Dario, mio socio, si sta proponendo come tester, ma... È il mio dolce perfetto. Ah ok, perfetto. È il dolce italiano più famoso al mondo ed è di origini venete, anche se in realtà c'è una diatriba con il friuli. Uova, mascarpone, savoiardi, caffè, zucchero e cacao amaro. In qualche ristorante l'ho visto servire anche scomposto. In ogni caso nel nostro blog trovate la ricetta completa. Proviamo ora quindi a fare gli abbinamenti. Uno dei miei abbinamenti preferiti è questo vino che ora vedete in grafica. L'affinità l'ho scoperta da poco e per dire la verità anche un po' per caso. È un manzoni moscato, un vitigno derivato grazie al professor Manzoni, da uve, rabosa e piave incrociate su moscato d'amburgo. Questo in particolare lo produce l'azienda Borga. Siamo in provincia di Treviso e il conubio tra dolcezza e acidità che ha questo vino lo mette in armonia con l'accoppiata crema mascarpone e cacao del tiramisù. Non posso poi non citare un classico moscato d'asti. Per alcuni può essere banale ma se fatto bene fa sempre la sua figura. A me piace la caudrina di Dogliotti ma ce ne sono ovviamente anche altri. Altro vino, scegliendo un passito invece direi sicuramente un Montefalco Sagrantino, magari quello di Napolini. In Romagna poi c'è lo Scacco Matto di Fattoria Zerbina, un Albana Muffato che al di là del tiramisù andrebbe proprio assaggiato. Eccellente anche in abbinamento ai formaggi. Concludo con un passito di Pantelleria che può essere scontato ma assolutamente mai banale. Ho assaggiato recentemente, oltre ovviamente a quello di Donna Fugata che potrete trovare nei nostri video, quello di Minardi, una piccolissima azienda che fa 100% Zibibo veramente degno di notte. Bene, ora aspetto direi con ansia le vostre proposte.